I terreni partiva? Non lasciarla così che fa schifo, se la sterrata è meglio Il problema è che probabilmente ci sono, ma quanti chilometri da quel cartello? No, no, lì le segnano appassionate, magari non te la promuovono neanche Se no, dobbiamo andare dalle terme di Trajano, allora paghi Probabilmente paghi, ma forse sono terme? E funzionano? No, no, non sono terme Ah, li paghi solamente per vedere, basta I resti delle terme tenuti bene, c'è che sono rimasti su, però non so Se ha le terme di Saturnia, che sono terme a chi ci dovrebbero essere i resti all'interno delle vecchie terme Se hai un agricolo, non puoi ingrandirlo, se hai, che ne so, sono cinquanta metri, puoi ricostruire e riattarlo per cinquanta metri Forse puoi svilupparlo un po' in altezza, ma se hai venti metri di quadri, cosa fai? Un silos? Non ti puoi alzare Se sei in un agricolo non è efficace Se sei in una zona tipo questa, e sei un imprenditore senza cazzo generale, te lo fai e ti brighi tanti cazzeri da controllare qua Se uno proprio non lo sai ti odia morte Ma se sei da soli e devi affoggiare un'impresa, allora ho il tuo amico e te lo fa anche lui, come potrebbe essere a casa tua Ascolisti il pericolo però, se sei a casa sua, lo fa volentieri, sei a casa tua, non so Ma sei un impresario? Non riesca niente all'impresario, al proprietario che è un imprendizio Non lo so, perché non dovrebbe essere comunque anche un impresario che ti fa la richiesta di invadia di sistemare qua E tu, mi piace per me Credo che... un tipo di guai arriva, eh? Dovrebbe vedere a quel mare che ho volto E qui dimenticare qua E qui dimentico Quindi, un po' di sottopoli Per te anche per tutto Per te anche per me E qui si non è Per te anche per me Vedere a un ruolo La stagione Per te anche per me Per te anche per me i pezzi di asfalto con un buco che fanno il gradino che se fosse solo sterrato sarebbe starrato da qui mettere una macchina ma tranquilli se qua c'è un po di spazio di tutti i video vedi voglio fare tutto strada sempre questa si vede il mare che bello ma che bello questa somiglia un po' alla strada quella l'altra di Tebore solo che non c'era il mare in fuoco e comunque si salga in testo e lascia il mare e che dovrebbe peggiorare la sala con? si la domenica dovrebbe essere brutto lì su alcune cose facciamo vedere ma la sabato e la domenica dovrebbe essere magari un po' vario ma senza dolce io quindi se l'ho qui sb se l'abbiamo se l'abbiamo se l'abbiamo se l'abbiamo quella si quella l'abbiamo però la è meno potente se questa è più delle volte la schissi, non va, basta guardare se c'è la cosa lì sotto, adesso è sopra, adesso sta andando, prima sembrava che stesse andando, poi invece guardo e non c'è un cazzo sono le belle casette, non è nascosto, poi vieni qua a rubare, ti taglio a pezzi e ti puto la guarda, per quello che si arriva, però sai quelle bande lì che vanno in quelle case isolate, sono magari su qualche stratella, magari un po' così bello sole sempre ora dico ma anche il comune no, quella rama è bella non c'è nascosto, un cavallo un cavallo con due puledrini un cavallo con due puledrini due sono con la stellina anche sulla fronte e poi c'erano in vero tutti a presto un'altra casa barbara un'altra casa barbara un'altra cosa non da sempre a vedere il tetto un tetto tutto in mente un problema queste case qua sono tessi poi la rivoluzione ancora buon un tetto sono susatiti si va a portare la roba la roba baretina allora se sei un dipresario, non ti costa niente, è chiaro che non c'è un ricarico e poi non mi permette di pesare, non ti costa trovarmi ma se c'è il tuo metro, eh sì, bene o male, benefici qua, vabbè, magari arrivi dall'altra parte, cosa è un'altra parte è vecchissima, è un vecchio e là cosa c'è? ma che bello, anche lì ma qua c'è gente che sta pescando, eh beh, devo dire si pesca facciamo la panoramica di qua non c'è un cartello a dire che qua, agriturismo tenuta farnesiana, eh questa è la farnesiana questa qua, ecco io andiamo a vedere anche quell'altra non c'è una gara qui c'è anche un cartello qua? non so però se si può ritare ma questa sarà l'aliturismo ma te lo senti non c'è un cartello Forse si entrava lì dal piazzale dove c'era la chiesa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non l'hai trovato qua? Sono tutti in mezzo ai coglioni? Grazie a tutti. È una bella testa di minchia. Oh ma sono paesi abitatissimi. Forse ci sono un sacco di palazzi. C'è un sacco di palazzi. E' un sacco di palazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un sacco di palazzi. Dovrebbe essere a destra. Per lo meno di fronte a noi. Dovrebbe essere qua. Dovrebbe essere qua. un sacco di palazzi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E qua? Io dove cazzo lo trovo sto lago? Accesso pubblico. Eh. Accesso pubblico? Dove? Sì, me lo dico. Dove vai a Tuscania? Non so se conviene andare a Tuscania più a tutta la roba perché andare in giro. No, conviene andare prima là e poi quando torno i passi e vai a Tuscania. Ma io non voglio vedere l'acqua, adesso vediamo tanto. Questa è un'altra parte. Grazie.